Grazie di essere come sempre così vicino a noi. Volevamo farti vedere questo opuscoletto che abbiamo realizzato per i consumatori da dare alle macellerie per distribuire ai propri consumatori. Abbiamo voluto riassumere, ma proprio in modo molto ristretto, alcune delle nozioni fondamentali sui valori nutritivi e sul perché la carne è un bene positivo nell'alimentazione. Siccome l'ha realizzato la nostra amica Mary Mattiaccio, che è una tua allieva dell'Università di Bologna, e allora ti abbiamo colto qui sul luogo e ci permettiamo di farti a te queste domande. Tu come trovi questo nostro messaggio? Cioè, è fatto bene, è giusto, è utile? Sì, beh, intanto complimenti per l'iniziativa perché c'è una base scientifica su quello che viene comunicato e quindi non è solo un aspetto commerciale. Diciamo che la carne è fondamentale per tutta l'età, come si vede. Infatti, se guardiamo anche nella dieta mediterranea, la carne è presente. E quindi, a seconda del consumatore che abbiamo di fronte, trovarsi dal bambino all'adulto, alla persona anziana o allo sportivo, considerando quelle che sono le caratteristiche principali nutrienti della carne, con anche i consigli, anche sui grammi di proteina, ma soprattutto perché in questa fase è utile consumare carne rossa e in parte anche bianca, ovviamente, è molto importante perché così i consumatori si rendono conto degli aspetti scientifici della carne e non di tutte quelle false notizie che girano, ma qui abbiamo veramente un documento semplice ma molto intuitivo con una base solida scientifica. Quindi, complimenti per l'iniziativa perché sarà un messaggio sicuramente importante nelle macellerie e per tutti i consumatori. E il prodotto nostro, il prodotto carne, penso che possa essere fra quei prodotti principali per darci quegli apporti che abbiamo bisogno per rimanere sempre più in salute, dai giovani ai meno giovani. Sì, in effetti voi siete i professionisti della carne dal punto di vista commerciale, quindi l'aspetto scientifico che c'è dietro è la collaborazione, molti non vanno a leggere sulle riviste scientifiche, ma tramite voi sicuramente il messaggio, e questo opuscoletto è fondamentale, per far capire l'importanza della carne nella dieta. Quindi la scienza sempre alla base, ma soprattutto la comunicazione importante su basi scientifiche fatte da voi professionisti nelle macellerie in tutta Italia. Complimenti, è veramente una cosa fatta bene e molto utile per i consumatori.